Sergio Divina, lei ha criticato molto il governatore Visco, perché? Le dichiarazioni che fa oggi Visco le sintetizziamo in una parola. Per fortuna che c'è l'euro che ci ha messo a riparo al potere d'acquisto dei salari. Uno rimane a bocca aperta e dice, ma Visco vive dove? In Italia? Non so, la moglie lo manda mai a fare la spesa? Forse non si fida la moglie di Visco, lo tiene a casa. La verità è che noi entriamo nel 2001, Prodi negozia un cambio sfasato di entrata con il cambio lire-euro. Dal 2002 al 2014 possiamo dire tranquillamente che abbiamo perso più del 60% del potere d'acquisto. Immediatamente abbiamo perso un 50% col cambio lire-euro, poi classificato 1.000 lire con i costi interni. E via dicendo. Cosa è successo? Che i cittadini si sono accorti relativamente dell'impatto inizialmente. Perché? Perché tutti gli italiani, formichine, propense al risparmio, avevano un minimo di risorse accantonate. Le risorse sono finite, ci siamo accorti, il potere d'acquisto sta calando. Perché sta calando? Perché non ci sono più soldi da spendere. Beh, adesso che il governatore di Banca Italia ci dica che abbiamo protetto il potere d'acquisto, beh, insomma, equivale a una bestemmia in chiesa. Insomma, li chiediamo di rettificare o comunque di aprire gli occhi perché la verità è esattamente il contrario.